Per omnia saecula, saeculorum, a me, o re, precepti salutari bus moniti, e divina istituzione formati, aude mus dicere, Pater noster, qui es in celis, Santi Vice Tumur, nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo, et in terra. Paneb nostrum quotidianum, dan nobis otie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Insegnata da Gesù, questa preghiera che è stata ora cantata dal Contefico, si rivolge direttamente a Dio che si è rivelato come il Padre degli uomini. Per omnia saecula, saeculorum, a me, o re, precepti salutari bus moniti, a me, sit semper nobispo, che non ti li volgo. Grazie. Grazie. Grazie.